Mazzetti a tappeto, una città piegata ai voleri del clan e ordini che partivano soprattutto dal carcere. Ad eseguirli un gruppo di giovani leve rimaste in libertà e da qui il nome dell'operazione contro il clan Giampà di Lamezia. Un clan che non ha risparmiato nessuno, non solo gli operatori commerciali, ma anche i collaboratori di giustizia, sempre più numerosi e pronti a cantare tutto per riuscire di galera. Ne sa qualcosa il pentito Angelo Torcasio, alias Porchetta, che si è visto mettere a soccuadro la casa con cinque bottiglie di spumante lasciate alzate ed in bella vista sul pavimento. Una invece distesa a terra di mezzo alle altre con una P impressa sopra. Chiaro il messaggio, Porchetta doveva morire per mano di almeno cinque persone. Quindi il pizzo chiesto alla Lamezia, persino alle bancarelle della festa di San Pietro e Paolo e alla Giostra, 50 euro per essere lasciati in pace, sino agli accordi con i clan Vibonesi per ottenere i posti di lavoro nei supermercati o lo sconto dal concessionario per l'acquisto delle auto. L'opera di proselitismo delle giovani leve sarebbe partita dal carcere e per quanti ritenevano di non dover pagare più il pizzo dopo gli arresti, il rimedio era sempre efficace. Bottiglie incendiari a tutto spiano, perché un Giampai Libertà lo si trova sempre. Da Vibo Valencia per la Cineus 24.